Da 25 anni in Cina, missionario e ricercatore all'Università di Hong Kong, Gianni Criveller è uno dei massimi sinologi, conoscitore della Cina e dell'opera di Matteo Ricci. De gesuita vissuto alla fine del 1500, Criveller ha ricordato la vastità della cultura e la grande conoscenza della civiltà cinese. Matteo Ricci è considerato da molti studiosi uno dei personaggi migliori nella storia dell'umanità e in effetti è conosciuto da più di un miliardo di persone in Cina, in Giappone e in Corea per ciò che lui ha fatto, soprattutto in Cina, la introduzione del Vangelo, della fede cristiana attraverso la via del dialogo, dell'amicizia e dell'inculturazione. È entrato in Cina nel 1582, vi è morto nel 1610, la sua tomba è ancora a Pechino e ha lasciato un'eredità preziosissima, non soltanto religiosa ma anche culturale, scientifica e accademica. Matteo Ricci fu uno studioso che fece incontrare la cultura della dinastia Ming e il rinascimento europeo grazie alle sue conoscenze di cartografo, matematico e al metodo dell'accomodamento basato su un confronto con filosofie e religioni locali, sull'amicizia e sul dialogo. Un metodo ancora di grande attualità anche se in Cina non c'è una vera libertà religiosa ad esclusione di alcune zone come Hong Kong, Macao e Taiwan. Matteo Ricci ha fondato la Chiesa Cattolica in Cina e dopo di lui la Chiesa Cattolica è rimasta in Cina, non è mai scomparsa nonostante che ci siano state tantissime situazioni di persecuzione, di difficoltà che continuano anche oggi. In Cina ci sono 1 miliardo e 300 milioni di persone, i cattolici sono circa 12-13 milioni, dunque l'1% della popolazione, i cristiani, i nostri fratelli cristiani sono circa 70 milioni, dunque sono molto più numerosi. La situazione del cristianesimo in Cina oggi è positiva, nel senso che è una fase di grande espansione. Ci sono moltissime persone interessate al cristianesimo, anche tra i giovani, e moltissime conversioni. Tuttavia non c'è una vera libertà religiosa in Cina, il governo controlla e spesso anche interferisce nella vita della Chiesa, imponendo la propria politica religiosa e limitando moltissimo la libertà dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Anche l'ingresso per i missionari dall'estero? Certamente, oggi nessun missionario straniero può entrare in Cina, può lavorare in Cina in quanto missionario straniero. Ci sono delle presenze, ma con persone che hanno altre qualifiche allora in questo caso. Cina in Cina in Cina in Cina in Cina in Cina.